Dobbiamo parlare del peggior crimine al mondo in assoluto, che è l'abuso sessuale sui minori. L'islam sancisce l'abuso sessuale sui minori, non solo, ma prevede anche tutta una serie di peggioramenti che partono proprio da questo concetto immorale, il più immorale in assoluto, io suppongo. Per fare questo possiamo commentare una notizia che è proprio del 15 febbraio 2023. In Belgio un uomo di origini siriane ha violentato e ha messo incinta la figliastra di otto anni. Questo depravato, che aveva appena ottenuto lo status di rifugiato in Belgio, ha detto che secondo la sua cultura è normale avere rapporti sessuali con i minori. Quando la bambina è stata visitata e i medici hanno scoperto che era incinta di due gemelli, il depravato ha detto che era colpa della madre, perché la madre aveva fatto indossare delle gonne alla bambina. Anche in sede di tribunale questo depravato ha dichiarato i giudici. Vi ripeto ciò che ho già detto. La bambina mi ha provocato. Dicono che abbia nove anni, ma è il suo modo di comportarsi. Nella sua testa è più grande. Me l'ha chiesto lei. Vi ripeto che è stata lei a chiedere il rapporto sessuale. A marzo il depravato riceverà una condanna, riceverà una sentenza, quindi stiamo a vedere. L'articolo menziona le origini siriane di questo depravato come se la Siria fosse il fattore chiave di tutto. In realtà non è così. Il fattore chiave, cruciale per la comprensione di questa realtà o scena, è sempre e soltanto Mahometto, che, ripetiamolo, non è soltanto il fondatore dell'Islam, ma è il migliore esempio di uomo da seguire per tutti i musulmani ancora oggi, 1400 anni dopo. E Mahometto aveva sposato una bambina di nome Aisha quando la bambina aveva sei anni e ha consumato il matrimonio quando la bambina aveva nove anni e lui ne aveva 54. Ricordiamo anche che matrimonio in arabo significa esattamente rapporto sessuale consentito. Quindi esiste questa sezione della Sunna, dove ci sono tutti gli adit che ripercorrono questi dati della biografia di Mahometto e è intitolata Chiunque voglia consumare il matrimonio con una bambina di nove anni. Quindi questa sezione della Sunna si intitola Chiunque voglia abusare sessualmente di una bambina di nove anni. Vi ricordo quindi che sulla base di questo comportamento di Mahometto e dei musulmani di oggi, come migliore esempio da seguire, in questo momento nel mondo ci sono quasi due miliardi di persone che credono che uno stupratore di bambine sia un profeta, nonché il migliore esempio da seguire. Come andrà a finire secondo voi? Bene o male? Malissimo! Non solo per questo comportamento della Sunna di Mahometto, ma perché sulla base di questo nel Corano esiste il versetto 4 del capitolo 65, Talak, che è il divorzio, dove Allah dà le istruzioni per divorziare da delle bambine che non hanno ancora avuto le mestruazioni. Quindi è ancora peggio, perché se si considera solo la Sunna, spesso vengono date in sposa queste bambine dai nove anni in su. Ma in realtà nel Corano non c'è una frase che indichi questa regola. E quindi l'Islam ufficialmente afferma da secoli che nell'Islam non c'è l'età minima per il matrimonio, non esiste. Conferme di questo le troviamo in tantissimi paesi islamici, ad esempio in Turchia, dove l'ala più conservatrice che già conosciamo aveva cercato di andare contro la Costituzione turca che prevede i 18 anni come limite per il matrimonio, proprio perché la Sunna di Mahometto e la parola di Allah sono sempre superiori alle leggi umane. La stessa cosa, la stessa conferma arriva anche dalla Nigeria, dove un'autorità islamica non solo conferma che nell'Islam non c'è l'età minima per il matrimonio, ma che addirittura i cristiani si devono fare gli affari loro e non intralciare queste nobili pratiche dei musulmani. Poi ci sono tutta una serie di fatua che confermano questo, quindi la frase principale è «Nell'Islam non esiste l'età minima per il matrimonio». Non solo, ma negli ultimi anni si sono anche sviluppati dei movimenti per la tutela dei diritti dei minori e hanno fatto pressione sui relativi governi per avere un innalzamento dell'età del matrimonio. E tutte le volte questi movimenti politici o di attivisti si sono sentiti rispondere no, perché alzare l'età del matrimonio sarebbe un attacco all'Islam, sarebbe non più islamico. Questa è una delle prime cose che fece l'Iran dopo la rivoluzione islamica. La prima fu mettere la sinistra in carcere e la seconda fu proprio questa, non cedere a queste proposte di innalzare l'età del matrimonio. La stessa cosa è successa anche in Pakistan, si sono rivolte alle autorità e le autorità hanno risposto assolutamente no, perché non sarebbe islamico, andrebbe contro la sunna di Maometto, metterebbe in cattiva luce Maometto. E ovviamente in tutto questo non poteva mancare la patria del molestatore di bambine profeta, che è l'Arabia Saudita, dalla patria, è uscita questa autorità islamica che pochi anni fa ha affermato che una bambina può essere data in sposa già quando si trova nella culla. Che cosa sarà successo secondo voi dopo questa affermazione? Io avevo preparato i dati di cronaca, le foto, gli articoli, però ho poi deciso di non metterli nel mio video. Quello che voi dovete sapere è che ci sono dei casi di neonate morte per questo crimine. Ora, torniamo alla notizia principale. La notizia principale parla di figliastra e qui dobbiamo fare tantissima tantissima attenzione, perché secondo l'Islam la figliastra non è soltanto la figlia biologica di un padre precedente, di un uomo precedente che non c'è più, che è l'accezione che consideriamo anche noi in Occidente quando usiamo la parola figliastra, ma è anche la figlia biologica di un uomo che è nata non all'interno di una cornice, della sharia, del matrimonio islamico, ma che è nata per fornicazione. La fornicazione si dice zina nell'Islam ed è un peccato, anche abbastanza grave, che significa che io ho un rapporto sessuale con una persona, con un uomo, resto incinta ma non siamo sposati. La bambina che io partorisco è la figliastra di quell'uomo, anche se è la figlia biologica. Prima che vi venga il mal di testa affrontiamo la figliastra per come ne parla Allah nel Corano, nel capitolo 4, il versetto 23. In questo momento Allah sta parlando della figliastra per come anche noi usiamo questa parola, in questa accezione, quindi la figlia biologicamente di qualcun altro. Sapete che c'è questa lista, idiota, di donne da non sposare, a un certo punto Allah dice «Vi sono vietate le figliastre che sono sotto la vostra tutela, nate da donne con le quali avete consumato il matrimonio». Se il matrimonio non fosse stato consumato, attenzione, non ci sarà peccato per voi. In altre parole, qui Allah sta dicendo che se l'uomo ha sposato una donna che ha una figliastra, ma non ha ancora avuto rapporto sessuale con quella donna, può farlo con la figliastra. Per capire se sto delirando io o se sta delirando l'Islam, possiamo aprire la botola dei tafsir. Ibn Abbas dice Anche il tafsir di Al-Jalalain conferma Anche il tafsir di Ibn Kathir conferma Se divorziate dalle madri senza aver consumato, potete sposare le vostre figlie. Quindi per quanto riguarda la figliastra, quindi la figlia biologicamente di qualcun altro, l'uomo che ha appena sposato sua madre può avere un rapporto sessuale con la figlia se non ha già avuto il rapporto sessuale con la madre. Maududi finalmente, che è l'altro, è uno dei più prominenti commentari di questi tafsir del Corano, è finalmente con Maududi che mettiamo un piede nell'incesto fra padre e figlia biologica. Perché Maududi dice C'è comunque una divergenza di opinioni per quanto riguarda una bambina nata da una relazione illecita. La relazione illecita è l'asina, che dicevo prima, la fornicazione. Quindi qui Maududi non sta più parlando della figlia biologicamente di qualcun altro, ma sta parlando della figlia biologica di un determinato uomo che ha concepito quella bambina fuori dal matrimonio islamico e quindi per fornicazione. E Maududi dice Anif, Malik e Ambal, cioè le tre scuole di sharia sunnite, tre su quattro, pensano che anche questa figlia sia illegale come sposa, esattamente come la figlia nata e concepita col matrimonio islamico. Ma Shafi, dal quale deriva la quarta scuola di sharia sunnita, non considera la figlia nata da fornicazione illegale. Ovvero, secondo l'imam Shafi, che fonderà questa scuola di sharia che avevamo già visto, è quella della mutilazione dei genitali femminili, tanto sempre per argomenti fantastici, secondo l'imam Shafi, la figlia che è biologicamente tua, ma che è stata concepita per fornicazione e non all'interno della cornice del matrimonio islamico, puoi violentarla. Uso la parola violentare perché io do per scontato che nessuna figlia voglia avere un rapporto sessuale col padre biologico. A conferma di questo, Maududi infatti conclude dicendo L'idea stessa è ripugnante che un padre possa sposare una bambina sapendo che la bambina è figlia del suo stesso seme. Sì, ok. Allora, ringraziamo Maududi e ringraziamo le tre scuole di sharia sunnite che, mentre gli ebrei studiavano la Kabbalah e i cristiani studiavano Sant'Agostino, si sono seduti per capire se violentare la propria figlia biologica sia un bene o un male, per capire da dove deriva tutto questo delirio bisogna partire, questo lo cito solo per completezza, dal Corano nel versetto 54 del capitolo 25, Allah spiega che i legami fra consanguinei sono legami nati, sono legami che vengono stabiliti o da legami di sangue o da legami appunto di matrimonio. I tafsir relativi, e in questo momento sto parlando di Al-Kurtubi, che è uno dei più importanti e dei più antichi commentatori del Corano, che è seguito da tutti i sunniti, io credo sotto dettatura di Satana deve aver fatto un disastro non da poco, perché Al-Kurtubi a un certo punto menziona questo concetto, che è quello che riprende l'imam Shafi, che fonderà la scuola di Sharia Shafi, e dice che la figlia, per quanto sia la tua figlia biologica, se è nata da fornicazione la puoi stuprare, la puoi violentare. Io ho cercato la traduzione di Al-Kurtubi in tutte le lingue che abbiano almeno l'alfabeto latino e non ne ho trovata una, perché? Perché non l'hanno tradotto. Come il tafsir dove c'è Maometto che vuole sposare. la Madonna, la madre di Gesù Cristo. Ogni tanto questi tafsir scompaiono. Per quanto riguarda Al-Kurtubi, io vi posso lasciare in descrizione il sito, questo tafsir che proviene dal sito del governo dell'Arabia Saudita. Ve lo potete tradurre con Google Translate. Se vi interessa, secondo la mia schermata delle proporzioni del mio computer, le righe sono quelle dalla settima all'undicesima, più o meno, in cui viene detto questo. Sapete che Google Translate fa delle frasi che risultano inaccettabili in italiano, ma purtroppo si capisce questo, perché anche la traduzione in italiano dice c'è stata divergenza su questa figlia, se sia illecita oppure no, cioè se posso sposarla o violentarla oppure no, se la figlia è il prodotto di una fornicazione e non di un matrimonio islamico. Purtroppo si legge anche la conferma che c'è stato questo imam Shafi che ha considerato quindi lecito il rapporto sessuale con la propria figlia biologica. Se non dovesse bastare, esiste anche un'ulteriore conferma, perché quest'essere, che è indovinato da quale università proviene, l'Università Al-Azhar dell'Egitto, che è in assoluto la più importante di tutto il mondo islamico, nel 2012 questo essere caprino, guarda caso, ha detto che i padri possono fare sesso con le figlie nate fuori dal matrimonio islamico. Questa affermazione diventa poi virale grazie a causa di un video nel 2017, quando le persone si avvicinano a quest'essere per chiedergli che cosa intendesse, lui risponde, è un concetto perfettamente islamico, deriva dalla scuola di Sharia Shafi. Perfetto. Ora, io so che l'arabo, i tafsir, l'Egitto, Google Translate può far venire un po' di mal di testa. È tutto vero. Quindi, restiamo sul fulcro centrale di tutto l'argomento. L'islam non ha un'età minima per il matrimonio, e questa è una tragedia, perché espone le bambine di mezzo mondo al crimine che inizia con la P, che è assolutamente inaccettabile. E se anche nell'islam ci fossero 100 concetti, 99 bellissimi, e poi ci fosse questo, a mio avviso l'islam va comunque criticato, soprattutto anche solo fosse per questa pratica, per questa perversione sessuale, perché di questo stiamo parlando, di una perversione sessuale a danno di minori. Questa mentalità, purtroppo, può forgiare anche i casi di cronaca, come quello che abbiamo visto all'inizio. Io di notizie simili ne trovo circa una settimana, facciamo due o tre al mese. Si tratta di persone in Europa che vengono arrestate per aver stuprato una minorenne, o molestato una minorenne, e in tribunale dicono tutti la stessa cosa. Nella mia cultura è così, io non ho fatto niente di sbagliato. E tra l'altro queste minorenne, agli occhi dell'islam, valgono ancora meno delle bambine musulmane, perché sono infedeli. Con questo non sto dicendo che tutti i musulmani siano colpevoli di questo crimine che inizia con la P. Ci sono molti musulmani che si comportano in maniera molto rispettosa con le donne, con le donne occidentali, con le bambine che non si sognerebbero mai di fare un crimine del genere. Così come purtroppo ci sono persone non di ideologia islamica che commettono questo crimine. Ma purtroppo l'obiettivo qui personalmente è quello di trovare i punti più criticabili dell'islam. E io penso che questo sia in assoluto il più criticabile in assoluto. Scusate la ripetizione. Sappiate che la Dawah, per confermare quanto è subdola, spesso agisce su questo, facendo l'apologia di questo crimine. Esistono dei canali, anche in Italia, ai quali io non farei pubblicità, non vorrei personalmente essere legata a questi canali, in cui dicono chiaramente sì, maometto ha fatto questo, e allora? Perché continuate a criticarci? A noi piace. Cioè esiste una miniatura che dice e quindi a noi piace questa cosa che inizia con la P. E mi chiedo perché questi canali esistano, perché io non posso fare in un video l'apologia del nazismo o l'apologia del fascismo o l'apologia di un crimine. Quindi sappiate che la Dawah insisterà anche su questo, poi ci sono tutta una serie di obiezioni ridicole che dicono tipo che nel deserto una donna, una bambina aveva le mestruazioni prima, ma sono tutte follie. Io alla Dawah non ci darei neanche più tanto peso, tanto ascolto, perché ti fa perdere troppo tempo. L'ho visto, io personalmente di recente. Bisogna andare dritti, secondo me, all'argomento. E secondo me questo è uno degli argomenti che fa crollare per forza l'islam. A parte che bisogna vedere perché dovrebbe essere una religione un Dio che ti ordina un crimine del genere, che secondo me è il peggiore in assoluto. E poi queste persone che ne parlano come niente fosse, no, beh, a noi piace. Come anche un ragazzo, io credo che fosse il demonio. Per quanto riguarda le grooming gangs, cioè la schiavitù sessuale in Inghilterra, della quale io penso che gli inglesi non riusciranno a liberarsi mai più, questo essere è stato intervistato ed è responsabile di aver abusato per anni di bambine e ragazzine minorenni. L'intervistatrice a un certo punto gli dice ma perché fare un crimine così osceno contro una bambina per di più? Questo qua è seduto così sul divano e dice perché il buco è più piccolo e quindi è più bello. Ci vediamo presto, grazie mille, alla prossima, ciao!